Buongiorno, nuovo appuntamento con 30 minuti al massimo, tanti tanti argomenti come sempre, il tema dei vaccini, il Covid tiene banco, ma insieme a questo tutte le altre vicende politiche, economiche che riguardano il nostro paese. Sono molto molto contento perché è tanto che lo inseguivamo e finalmente siamo riusciti a convincerlo, ad essere con noi oggi il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Presidente, buongiorno, grazie per essere con noi questo pomeriggio. Ci vediamo come sempre, prima di tutto, la scheda d'autore di Andrea Malaguti. Eccolo qua. Non vuole fare carriera, eppure ne fa moltissima. Detesta il liderismo e in effetti è un leader a metà, più per scelta che per mancanza di carisma. Perché Nicola Zingaretti, 56 anni, Irko Cervo Romano, metà Bernie Sanders e metà Jeremy Corbyn, progressista ed europeista convinto, unico presidente della regione Lazio, eletto per due mandati di fila, ha una strana storia politica lineare, ricca, prestigiosa e incompleta allo stesso tempo. Volontario antirazzismo, segretario della PGC, poi presidente della provincia, impegnato per lo sviluppo sostenibile, la legalità, per tutti i diritti civili che vi possano venire in mente e anche per la pace tra Palestina e Israele. Insomma, ritratto perfetto dell'uomo aperto e inclusivo, è da sempre accusato di non avere il fegato per fare il grande saldo. Meglio rimanere nella propria comfort zone. Segretario del PD dal 2019 ha mollato l'incarico poco più di due mesi fa, accusando i dem di pensare più alle poltrone che al bene del paese, lasciando la patata bollente nelle mani di Enrico Letta e ammettendo così implicitamente di non essere in grado di governarli. A Michele Masneri del Poglio ha raccontato «Ho capito che giravo il volante e la macchina andava dall'altra parte» e lo ha detto senza rendersi conto che già era un miracolo che il PD avesse una parte dove andare, eppure che l'uomo ci sappia fare sotto gli occhi di tutti. La gestione della pandemia da parte della regione Lazio è diventata un modello per l'intero paese, al punto da spingere i democratici a inginocchiarsi davanti a lui per chiedergli di correre come sindaco di Roma. A occhio e croce, in una città in cui gli autobus prendono fuoco, i cinghiali vanno a caccia di cibo davanti alla farnesina e le macchine vengono inghiottite dalle voragini in strada, avrebbe vinto a mani basse. Il punto è che non lo sapremmo mai perché, pur tentato, Zingaretti ha detto no, come se gli mancasse sempre un centesimo per fare un euro, che in fondo è la storia del PD. Allora, Presidente Zingaretti, poi parleremo di Roma, parleremo della politica eccetera, però intanto c'è da registrare il fatto che dopo una prima fase stentata sui tamponi, parliamo ovviamente della campagna e dell'emergenza contro il Covid, il Lazio sui vaccini si è preso un grosso riscatto, un successo, è diventato un case history il Lazio, come è possibile? Perché abbiamo raccolto i frutti di otto anni di lavoro sulla sanità, questo aggiungo rispetto all'analisi che si fa, era una regione commissariata da 12 anni per un buco che abbiamo trovato immenso, nel 2013 avevamo 800 circa milioni di euro di disavanzo l'anno, blocco del turnover e blocco degli investimenti e in otto anni abbiamo combattuto per una nuova sanità e questo oggi ha voluto dire da tre anni poter assumere sconfitta del blocco del turnover, grandi investimenti sul data center regionale che oggi ci permette di avere un'app dove ti scarichi tutto. Un'app che funziona tra l'altro, per l'appunto, questo è già una notizia in Italia. Non per noi, va detto perché mai ti regala niente nessuno, anche il fatto di aver avuto questa passione, perché si tratta molto di passione quando ti avvicina qualcuno e ti fa il vaccino, è figlia di un lavoro di lunga lena e mi permetto di dire anche di scelte di governo molto lungimiranti. Quando annunciammo il data center regionale, credo 30 milioni di euro di investimento e ora c'è una gara di 15 milioni per mettere tutta la sanità regionale dentro il digitale, le persone alzavano un po' gli occhi al cenove per dire ma parlate di data center, di digitale, perché era 15, fino a 17 mesi fa e invece il Covid ci ha fatto capire che tante cose sono cambiate. Guardi, il 20 gennaio, se non sbaglio, del 2020 arrivò la telefonata da quell'albergo romano con i due signori cinesi è iniziata 17 mesi fa questa avventura, ma questi 17 mesi ci hanno anche dato tante conferme, lo dico da democratico, da persona di sinistra, che tante nostre battaglie o intuizioni erano battaglie e intuizioni giuste. A quali si riferisce in particolare? La sanità pubblica, l'universalismo del welfare, la necessità dello Stato per prendersi cura della persona, la voglia di benessere, l'Europa e la follia dell'antieuropeismo, l'idea che i problemi li si risolvono come comunità, poi dopo durante la battaglia del Covid l'idea delle regole, del coprifuoco, delle mascherine, ora tutti ci siamo dimenticati, ma addirittura mettersi una mascherina per non contagiarsi è stata figlia di battaglia politica. Poi adesso le destre, che sono state sostanzialmente contrarie, se non ogni volta con l'ossessione di distinguersi da queste strategie, devono prendere atto che se l'Italia come sta uscendo, perché sta uscendo dall'incubo, è merito di tutti. Io sono contento ed è il tempo dell'unità e dell'impegno comune, però l'inuità non può voler dire rimuovere una storia, su tutto c'è stato un conflitto e io rivendico che se non avessimo fatto delle scelte a cominciare dalla scelta europeista, da Roberto Qualtieri ministro del Tesoro, da Paolo Gentiloni a Bruxelles, da Enzo Amendola, dal fatto che Conte ha fatto quella battaglia a suo tempo e per fortuna oggi Draghi è il garante di questa stabilità. Noi oggi non saremmo qua a parlare di quello di cui stiamo parlando. Questo è sicuro, però per contro succede anche un altro fatto paradossale, lo dicevo al ministro Orlando che era seduto al suo posto proprio ieri, e cioè che nonostante questa riflessione che lei fa e che io condivido, però è Salvini che dice stiamo vincendo noi, abbiamo vinto noi perché sulle aperture finalmente il presidente del Consiglio Draghi, al contrario di quello che faceva Conte ci ascolta e anche in Europa battiamo i pugni secondo il nostro orientamento. Ma che lui lo dica è assolutamente legittimo, è figlio della democrazia e della battaglia politica. Il tema è la credibilità con la quale le cose si dicono. Io so che quando finì un governo caratterizzato dall'anti-europeismo come quello del Conte I, sotto quella cultura politica e dell'illusione che battendo i pugni sul tavolo si ottengono risultati, noi eravamo a livello di credibilità zero. È stato, a proposito di contenuti, l'arrivo e lo rivendico del Partito Democratico al governo del Paese che ha ricollocato l'Italia, a proposito che non avevamo contenuti, al centro della campagna dell'innovazione europea. Perché noi non abbiamo accettato l'Europa che c'era, quella dell'austerio. Abbiamo combattuto in Europa per un cambio di passo dell'Europa. Lei ricorderà le prime battute addirittura sul Covid di qualche esponente europeo che dicevano, ma noi che c'entriamo col coronavirus. Sono state una settimana e poi è cambiato tutto. Quindi che Salvini dica queste cose, ripeto, è legittimo. Penso che se noi ci preoccupassimo tutti insieme di essere più orgogliosi e uniti sulla nostra storia, probabilmente anche la credibilità di quello che ci stiamo dicendo sarebbe maggiore. Per questo io penso che noi dobbiamo affrontare il futuro, ripeto, con uno spirito unitario, sostenendo la straordinaria forza di questo governo, ma anche orgogliosi di una storia e degli argomenti che possiamo mettere in campo. Il WERS, se io fossi venuto da lei, diciamoci la verità, due anni fa, e lei mi avesse fatto la domanda, ma quali sono le cose importanti, e avessi detto sanità pubblica, welfare universalistico, difesa del bene comune, europeismo, lei avrebbe detto, vabbè, la solita solfa. No, no, io sarei stato d'accordo. Lei sarebbe, sì, denunciando il mio minoritarismo, diciamo così. Però invece la storia ci sta riconsegnando che le idee populiste, per non parlare quelle nazionaliste, che hanno organizzato e cavalcato le paure delle persone, quello è il problema. Oggi sono state sconfitte, dice lei. No, non hanno risposte. Rappresentano i problemi ma non li risolvono e quindi lasciano un vuoto. E questo non vuol dire che abbiamo vinto, perché purtroppo anche la pandemia ha lasciato un drammatico aumento delle disuguaglianze sociali, che è benzina sul fuoco. E quindi quella rabbia c'è. Per questo ora io dico al mio campo di forze da Presidente di Regione, attenti perché l'ordine del giorno è cambiato. La pandemia dal punto di vista sanitario abbiamo vinto noi con la scienza, ma l'ordine del giorno già è un altro. È il lavoro, darlo e chi non ce l'ha che si senta tutelato. Queste sono le due grandi terreni di formazione della proposta politica. Però se io facessi l'avvocato del diavolo, come faccio? Le direi questo. Ma Zingaretti che mondo vede? In realtà l'Italia in questo momento, sondaggi alla mano, è saldamente in mano alla destra. Centrodestra, destra, chiamiamola come vogliamo. Se guardiamo i sondaggi il blocco maggioritario è quello là. E il Partito Democratico galleggia tra il 18 e il 20% se va bene. Quindi perché avete vinto? Stanno vincendo loro. In seguito era sprofondato al 14 e senza un sistema di alleanze. 2018, non 2008. Qualche anno fa, quando questa avventura è cominciata, l'ultima legislatura. Quindi non c'è dubbio che c'è un tema di rapporti di forza. Ma questo è l'oggetto della politica. Se si riesce a costruire una politica convincente e intorno a questa politica del convincente delle alleanze che gli permettono di vincere. E io dico la politica convincente è quella che si immerge nel dramma e nel umano delle persone e nelle potenzialità di questo Paese e a questo dà delle risposte. Se noi ricominciamo la tiritera, mi scusi, non lo dico con spirito di polemica anche se lei sarebbe contento, ma la discussione che si è aperta qualche settimana fa, se venivano prima le alleanze e poi i contenuti, o prima i contenuti e poi le alleanze, io l'ho trovato un po' deprimente perché è evidente che non esiste questa distinzione. Noi dobbiamo avere una politica di alleanze per far vincere i nostri contenuti e la nostra identità. La battaglia europeista che, ripeto, ha dato all'Italia quel governo in Europa, Paolo Gentiloni e le vittorie che abbiamo ottenuto, erano la base poi di un sistema di alleanze che ha permesso di chiudere la stagione del nazionalismo e del populismo. Quindi ora noi dobbiamo capire che dovremo essere i migliori nella capacità di produrre un nuovo modello di sviluppo per creare ricchezza. Dico io, fondato sulla sostenibilità ambientale e digitale, però anche i più testardi, quelli che vengono riconosciuti per strada, perché non si vergognano a dire che siamo anche i garanti che la ridistribuzione della ricchezza avverrà, come chiede la Costituzione, sul principio dell'uguaglianza e della progressività. Questa è la nostra identità che ci dà un ruolo. Però, Presidente Zingaretti, anche qua un'obiezione e ritorno a quello che dicevamo prima di Salvini. Salvini incontra Draghi e dice che siamo d'accordo su tutto. La sensazione è che Draghi lasci che questo sia il messaggio che passa. È un governo in mano alla destra questo di Draghi, secondo voi? E voi lo patite da questo punto di vista? Io non mi sento di dire che questo governo ha fatto delle scelte, ha messo in campo politiche che il campo di forze di centro-sinistra non riconosce. Io lo parlo non a nome del PD, in questo caso perché sarebbe scorretto, ma da Presidente di Regione. Noi siamo parte di un'avventura, anzi siamo stati garanti. Mi permetta di dire che il PD ha in assi di partenza. Lì c'ero invece. È stato in questo governo perché convinto, non perché costretto, come è accaduto magari per altri. Quindi io no, questa distinzione non la vede. Questa impronta non c'è. L'altro vero problema è che noi usiamo questo tempo per far vincere l'Italia, orgogliosi di poter dire agli italiani ce l'abbiamo fatta. L'Italia ha superato la più grande pandemia del dopoguerra, sul tappeto rimangono dei nodi incredibilmente seri e noi ci candidiamo con le nostre idee e la nostra cultura politica e con il nostro modo di essere a governarli per liberare la persona. Perché se ritorniamo alle illusioni, se l'antieuropeismo, che la rabbia, che il battere il pugno sul tavolo, che urlare risolve il problema del disoccupato della periferia, si ricommette un altro errore. Lo possiamo fare, io penso, con più credibilità. No, però il tema è questo. Per esempio su una questione che riguarda il blocco dei licenziamenti, per parlare di persone che hanno bisogno di tutela quando il Covid se ne andrà, ma già ora che il Covid ci ha attraversato in modo drammatico come sappiamo, Draghi sembra essere più orientato a favore delle proposte che fa la destra. Ma io penso, guardi, la destra non si sa. Sblocchiamo gli sti licenziamenti. La destra veramente non si sa quello che si sa. No, Salvini ha cambiato idea parecchie volte. Cambia idea dodici volte. Diciamo l'ultima cosa che ha detto. Appunto, ma siccome parliamo della vita di un essere umano, di una donna, di un uomo, di un ragazzo, proprio questo atteggiamento è quanto di più terribile si possa trovare nell'identità della politica. E fanno così per un motivo, ripeto, come dicevo prima, perché cavalcano i problemi ma non hanno le soluzioni. Mi sembra invece che si sta arrivando a una posizione ragionevole, che è quella di una progressività, e cioè non dalla notte alla mattina, ma dal fatto che settore per settore si debba arrivare a un processo di uscita da una stagione incredibile. Usiamo uno slogan, nessuno deve essere lasciato solo. Sì, questo lo dicono tutti, però poi… Però le dico una cosa, sulla quale invece si è poco riflettuto per capire l'enormità di quello che è accaduto. A marzo 2020 le persone che erano in smart working in Italia erano 550 mila e la media di aumento dello smart working in Italia era circa 25-30 mila persone l'anno. 550 mila. In dieci giorni siamo arrivati a 6 milioni e 700 mila. 550 mila, 6 milioni e 700 mila persone smart working. Questo le dà la dimensione, però, dell'enormità di quello che è avvenuto. E quindi noi non avremo solo un problema di licenziamenti e non licenziamenti che sarà centrale, ma come si riorganizza il lavoro. E mi permetto di dire anche di come in questa riorganizzazione del lavoro il diritto dell'impresa, che è fondamentale, vada di pari passo con il diritto dell'individuo. Ci sono già dei segnali che ce lo dicono. Di persone che rifiutano salari troppo bassi e quindi dovremo… Si dice che le imprese hanno bisogno di lavoratori, ma i lavoratori non li trovano. Accade anche questo. Io faccio il presidente della seconda regione italiana per prodotto interno lordo. Quello che vedo nel mio comparto produttivo è una grande vitalità, una grande voglia di ritornare. Noi abbiamo fatto dei bandi nella regione Lazio con la rete delle università e dei centri di ricerca, ad esempio per, partendo dall'esperienza Covid, capire come si può innovare il prodotto e innovare la produzione, come far fronte ai nuovi bisogni. Ad esempio, questo sarebbe una bella discussione. Noi per anni abbiamo parlato della sanità del territorio e invece abbiamo avuto un modello molto ospedalizzato. Poi ci siamo accorti che abbiamo curato milioni di esseri umani a casa. Visto che questa è una popolazione che invecchia, purtroppo… Eh, questa è un'altra lezione da trarre, no? È una lezione da trarre, ma non ce l'abbiamo… Ma a lei le sembra che questo oggi sia l'oggetto della discussione in Italia? Beh, dovrebbe esserlo, certo. Ma sa perché è importante? Perché se noi non diamo una risposta a questa domanda, visto che la popolazione anziana cresce e per fortuna vive di più, se noi non capiamo come quel diritto costituzionale al diritto alla salute diventa davvero praticabile nella sostenibilità, l'esito è scritto. Ah, non c'è dubbio. Come accadde all'inizio per molti durante la pandemia. Sì, sì. E cosa noi dovremmo farci riconoscere? L'universalità del diritto. E mi permetta di dire, io continuo a credere che la vera differenza tra noi e anche tante forze politiche, lo dico almeno da Presidente di Regione, è davvero fare i tutori e i garanti della seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine. Chiaro. E ma non lo fa nessuno. No, no, buona parte della Costituzione italiana è inattuata, purtroppo. Bravo, ma il 3 ci dice… Certo. Ma vede, anche lei che è un professionista, lì non c'è scritto i politici o i giornalisti o i magistrati, lì c'è scritto la Repubblica rimuove gli ostacoli. Quindi in tutti noi sta la missione di quel compito di inverare quei diritti costituzionali. Perché oggi la vera minaccia della democrazia italiana è proprio nell'esclusione sociale e cioè nel fatto che milioni di individui si trovano nei margini e quindi chi crede nella democrazia non può fuggire da quell'imperativo costituzionale di includere. E la crisi, ahimè, del sistema politico è che purtroppo, lo dico senza polemiche, si fanno partiti, partitoni, partitini, ma poi chi si cimenta su questo nodo di come produrre ricchezza in forma nuova e ridistribuirla all'insegna? Questo è un tema immenso e credo dovrà anche essere, visto che sono tutti contenti, ci vogliono i contenuti, va bene. Magari fosse questo il contenuto. Con chi ci sta? Allora, poi ne parliamo di chi ci sta. Ritorno al tema. Governo Draghi. È soddisfatto di come stanno andando le cose? Passaggio da Conte a Draghi? Io sono molto soddisfatto perché non c'è dubbio che in questo momento la figura del Presidente è una figura che per tanti motivi, anche abbastanza ovvi e banali, è un garante rispetto a un processo che è un processo molto complicato perché il recovery che è stato conquistato da Conte deve poi seguire delle regole e poi si dovrà attuare, che è la parte che a me, le confesso, preoccupa di più. Noi stiamo indebitando il Paese in maniera incredibile ma c'è, come vede, una fiducia del sistema internazionale. Ma questo ha un valore... Questa è una differenza rispetto a Conte però. Ma sa, guardi, il recovery l'ha conquistato Conte che stava lì da una... Beh, l'ha concesso l'Europa più che altro, possiamo dire questo. Conte volte l'Europa, l'Italia non ha concesso niente se non c'era un elemento di credibilità. Guardi che lo tsunami, lo tsunami della pandemia è stato uno tsunami che ha messo a dura prova... Ma ha cambiato tutti i paradigmi, certo. Perché ci ha proiettato, lei ha avuto il Covid, io sono stato il primo, diciamo, tra quelli un po' e lo ricordiamo. A lei si ricorda lo shock, ma sa perché? Perché in qualche modo simbolicamente abbiamo capito che era qualcosa che, come diceva Totò in quella bellissima poesia, la livella, non guarda in faccia a nessuno. Invece noi viviamo in un Paese nel quale, in un'Europa nella quale, alla fine ci sono fasce che, sì, chiacchieri, chiacchieri, ma stanno in una condizione di tutela. Non c'è dubbio. E il Covid è stato uno tsunami che ci ha fatto capire, guardate che, oh, abbiamo bisogno dello Stato che funziona, ma solo i poveri, no no, tutti abbiamo bisogno dello Stato che funziona. Mi dica una cosa però, perché è tema di discussione di questi giorni, Conte è caduto per un complotto? Ma questo non l'ha mai sostenuto nessuno però. Questo è stata una ricostruzione. C'è un giornalista, Marco Travaglio, che lo sostiene con un libro appena uscito. Quello non l'ho letto. No, io credo, anche perché c'ero e ho seguito quella vicenda, ci sono state una serie di convergenze, di opinioni e non so se ti interessi, che poi hanno giudicato conclusa una fase. Io ricordo, ma questa è cronaca giornalistica, quando qualcuno diceva anche Nicola la pensa come me, io, lei si ricorderà, il 5 novembre del 2020 fu il promotore di un incontro a Palazzo Chigi con i leader di quella maggioranza per spingere verso un rinnovamento del governo. Poi evidentemente dentro quel dibattito c'era chi nel rinnovamento aggiungeva anche l'esigenza di chiudere un'esperienza. Io pensavo... E chi era? Era Renzi? Ma questo è un fatto di cronaca. Ma solo lui oppure c'è stato i cosiddetti poteri forti? Ma magari in Italia esistessero i poteri forti. Mi fa piacere che lei lo dica perché così crediamo. No, il problema in questo momento io credo che noi spaghiamo una patologia che è legata alla debolezza della politica innanzitutto, perché tante cose che si vedono sono figlie che che se ne dica, di una fragilità, di quei livelli di forza che dovrebbero avere dentro una democrazia i pilastri, una democrazia tra cui quella della politica. Non c'è dubbio. Quindi adesso l'esperienza, passati comunque da Conte a Draghi, lei considera questa esperienza finora largamente positiva anche rispetto al Partito Democratico, che pure sembra, ripeto, un pochino in sofferenza tra una destra che spadroneggia, un Movimento 5 Stelle ridotto piuttosto male. Adesso vedremo come andrà il tentativo di ricostruzione di Conte. L'alleanza con il Movimento 5 Stelle, lei è stato uno dei primi a propugnarne la strategicità, diciamo così. Resta l'asse portante del Partito Democratico? Deve essere l'asse portante del Partito Democratico? Io governo in una regione che è la seconda italiana per PIL con il Movimento 5 Stelle, ma capovolgiamo la domanda, perché se no si precipita nel nominalismo e nel discorso ideologico. C'è un fronte che è il centrodestra, fatto da tre forze molto diverse e questo non gli impedisce di presentarsi a tutte le elezioni maggioritarie insieme. Mi sembra di capire, ma questo lo sa più lei che il direttore di giornale, che noi stiamo andando verso un sistema elettorale per le elezioni politiche maggioritario. O si organizza l'altro fronte, oppure si viene meno a un dovere che in democrazia richiedrà su di noi. A noi è chiesto di riorganizzare un campo con gli attori che di questo campo fanno parte. Ovviamente non sulla coltivazione del cacò in Brasile o su quanti petali hanno le rose, su una visione del futuro dell'Italia. Questo è il vero tema. E io tremo perché invece su questo c'è un rifiuto quasi psicologico e culturale per cui si ha quasi paura di affrontare questo tema. Enrico Letta da questo punto di vista è stato molto coraggioso perché ha detto la verità e ci ha detto guardate che la discussione che stiamo facendo a volte è una discussione che non ha fondamento, anche perché le ricorderà. Io dissi, e anzi non io, perché qui poi pure questa è un'altra bella storia, tutto il Partito Democratico per tre volte consecutive, anche votando, votò la proposta di una legge elettorale proporzionale con un'altra soglia di sbarramento. Che caso mai poteva far venire meno l'idea della necessità di un'alleanza? Poi abbiamo scelto invece di scommettere sul maggioritario come formula di semplificazione del sistema. Va bene, ma se tanto più c'è un sistema maggioritario non è una scelta, è una missione politica di organizzazione della democrazia ed è la necessità di farlo, mi permetta di dire, al di là delle virgole, è sulla base, ripeto, di una visione di un futuro dell'Italia al quale noi potremmo arrivare molto più forti. Secondo lei coincide ancora questa visione dell'Italia tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle? Ma io guardi, io lo parlo per me, io governo la seconda regione italiana per il prodotto interno lordo, ripeto, su un programma sul quale ci si è confrontati e si è condiviso, ma magari si arrivasse a questo punto con chi ci sta. Anche perché, per fortuna, per come è fatto il campo del centrosinistra, io penso a un campo plurale, fatto di personalità. Ecco, a questo proposito c'è margine, lo dicevamo con Orlando, per recuperare per esempio Bersani, Speranza, dentro il Partito Democratico? Lui diceva persino Calenda. Guardi, l'ultima cosa di cui in questo momento c'è bisogno è quello di pensare il futuro riproponendo schemi del passato. Io credo che noi dovremmo trovare gli assi portanti e possiamo farlo, perché abbiamo gli strumenti per farlo, di una visione che riaccende la speranza ai milioni di ragazzi e di ragazzi sul fatto che questo è il luogo nel quale si può costruire una vita. E questa missione, con tutta la passione possibile, richiede di superare, a mio giudizio, arrivo a dire io con chiunque, c'ho qua il sangue che cala, ma se l'obiettivo è l'Italia e il futuro di nuove generazioni. Il problema è che appena inizi questa discussione, questo glielo devo dire, iniziano gli schemini della vecchia politica. Però poi quelli contano in qualche modo. Per perdere contano. Io prima ho visto la trasmissione che diceva non ha mai fatto il no. Io negli ultimi 15 anni ho sempre vinto le elezioni nel giorno in cui il centrosinistra le perdeva. Io invece rivendico la testardaggine con la quale non ci si ferma al chiacchiericcio politico. Non è normale che noi abbiamo discusso per un mese e mezzo se venivano prima le alleanze o poi i contenuti. E poi adesso ci stiamo ricadendo in una discussione sugli schemini, la confederazione, le cose. Ma quella è tutta roba che ci porta lontano dal fatto che i ristoratori, gli artigiani, i commercianti stanno ora pensando a come non vendere o chiudere la propria attività. È verissimo. Però, Zingaretti, la politica vive anche di queste cose. No, questo è l'errore fondamentale del nostro campo. L'illusione di... Beh, non solo del vostro. Anche a destra la discussione è in atto. Ma guardi che lei mi trovi... La federazione, Lega, Forza Italia. Forme diverse di stare insieme, non se lo stare insieme. No, invece in questo, devo dire... Il PD è ancora un partito tossico? Come lei disse quando se ne andò? Non ho mai detto il termine tossico, questo non l'ho mai detto. Ho detto che... Correntismo esasperato. È cambiato qualcosa, secondo lei? Beh, io vedo intorno... Io penso che il Partito Democratico ha preso una fase nella quale, almeno Enrico, tenta di interpretare questa esigenza di rilanciare un'iniziativa politica. Fa bene a lanciare temi come lo Iussoli, come il voto ai sedicenni, come l'imposta sulle successioni per creare la dote ai diciottenni? Fa bene a tenere insieme due aspetti dell'iniziativa politica, che è quella dei contenuti e quella delle forme, delle gambe con le quali questi contenuti devono andare avanti. Io segnalo una cosa, che poi secondo me è il problema, ma non è il problema, non è Enrico, che per me lo è stato. Il Partito Democratico dovrà affrontare con grande serenità un grande tema. Noi siamo molto uniti, è un campo, addirittura al di là del PD, che è molto unito su alcune grandi questioni, diritti civili, diritti politici, diritti sociali. Quando poi si arriva al punto del come ridurre le distanze tra chi sta sopra e chi sta sotto, di come ridistribuire la ricchezza, ecco lì inizia una frizione, che non vuol dire essere divisi, però bisognerà a un certo punto affrontarla. Per i democratici americani è molto più naturale quello di dire produciamo ricchezza e ridistribuiamola all'insegno della uguaglianza, della solidarietà. Io dico della progressività se si parla di sistema fiscale. È evidente che noi ci portiamo dietro un tema che neanch'io non parlo per criticare qualcuno, con il quale siamo riusciti fino a fondo a farlo. Ma io rivendico però che Roberto Gualtieri è stato il ministro del governo e l'esponente del PD che durante i momenti più drammatici della pandemia non ha avuto paura di dire cassa integrazione anche a chi ha un dipendente, aiuti per essere vicini alle imprese. Lei si ricorderà che ora tutti sono contenti, ma se noi non avessimo fatto quelle scelte, oggi avremmo un comparto produttivo del paese desertificato ancora più. Il tema è quanto allungarle quelle scelte, no? Sì, sì, però il tema è aver fatto quelle scelte nel momento in cui andavano fatte, perché chi abbassava la saracinesca del bar e aveva due dipendenti, i due ragazzi o le due ragazze non si sono sentite sole, perché per la prima volta nella storia della Repubblica la cassa integrazione veniva data alle aziende che avevano un dipendente. Lì lo Stato c'è stato e noi dovremmo trovare la nostra forza per dire, quella è modernità, perché non c'è modernità se si umilia l'uomo, se si umilia la persona. E, attenzione, noi che crediamo nella democrazia, non possiamo illuderci che la democrazia sopravviva ad alti livelli di disuguaglianza. I comunicati stampa che sono seguiti alla decisione del G7 della Tassa Universale, i primi, sono stati dei giganti delle multinazionali, perché addirittura loro se ne accorgono che noi abbiamo un immenso problema di impoverimento del ceto medio produttivo dell'Europa e delle democrazie e il ceto medio produttivo o il ceto medio se si impoverisce diventa catturato dalle sirene della rabbia e le democrazie entrano in crisi e quindi anche questi giganti del web che hanno fatto le proprie fortune dalla deregulation internazionale, addirittura loro si sono accorti della necessità di una svolta. Adesso l'Europa si è mossa per fortuna, anche su quello. Ma questa è una grande svolta se chiude gli occhi e pensa all'Europa di due anni fa. E ora io dico il pensiero politico democratico di sinistra ha un compito che non è quello di dire brava l'Europa che se ne accorto, ma quello di dire ora l'Europa politica, perché a queste scelte c'è bisogno ora del salto degli Stati Uniti d'Europa e cioè di un livello sovranazionale, perché altrimenti noi ai cittadini europei la forza per essere e rimanere liberi nel pianeta Terra non gliela rideremo mai. Non c'è dubbio, ma mi dice una cosa, perché se... Ma noi dovevamo parlare della regione la... Infatti stavo tornandoci, però le voglio... siccome lei si è appassionato, si è infervorato e ha parlato di massimi sistemi, che è una bella cosa, la politica è passione, quindi è una bella cosa, però la domanda che le faccio quindi è, ma perché si è dimesso dal PD? Ma l'ho detto, l'ho detto più volte, perché assumendomi le mie responsabilità... No, perché lei parla come se ancora fosse... No, io rispondo alle domande come militante e presidente di una regione centrosinistra che crede nel suo partito... Si è pentito un po' di essersi dimesso. No, assolutamente no. Ha fatto bene? Assolutamente no, perché penso che... Serviva una scossa. Guardi, le mie dimissioni hanno portato il PD fuori dall'angolo di una discussione fratricida, per cui qualsiasi cosa, io dicevo, veniva presa a pretesto per creare polemiche. Anche la partecipazione a una trasmissione televisiva era oggetto di... Beh, se lei va dalla D'Urso, mentre esplode il caso dei Rider, quello è stato un po' il tema che ha fatto pensare, no? Perché, vede, sa qual è la regione italiana, l'unica regione italiana che ha una legge votata a tutela dei Rider? Il Piemonte. No. La regione Lazio di Nicola Zingaretti. Siamo stati i primi e gli unici che hanno fatto... Quindi nessuno mi può fare lezioni a me sulla condizione dei Rider. Io trovo ridicolo la discussione che chi dice, voi siete la sinistra della ZTL, poi perché uno partecipa a una trasmissione che ha la caratteristica di essere popolare, parte subito o la puzza sotto il naso di chi si sente superiore perché invece si sta meglio tra gli ovattati salotti della cosa. Quindi no, era, parliamoci che a parte le scherze, era sintomo di una battaglia politica che a mio giudizio aveva superato ogni limite e mi permetto di dire anche il modo migliore di dire al PD bisogna voltare pagina anche perché io le assicuro, io ci rido perché ormai ci sorrido, ma le scelte che noi abbiamo compiuto in quelle settimane erano scelte compiute tutte all'unanimità, non credo che ci sia messo... Questa è una costante nel PD, eh, questa è una costante. E appunto però... E le sedi deputate c'è sempre una quasi umanità. E allora diciamo così, io mi sono permesso di dire così non si va da nessuna parte, sono il primo a prenderne atto e a spingere perché si apre una nuova fase che Enrico sta aprendo. Ecco, però le chiedo un'altra cosa su Roma, perché a un certo punto, lo abbiamo sentito anche nella nostra scheda, la sua candidatura a sindaco di Roma sembrava probabile e forse anche una soluzione tutto sommato naturale e aggiungo molto forte per il PD e per il centro sinistra. Perché alla fine è saltata? Guardi, io innanzitutto sono contento, io mi candido a Roma da 14 anni consecutivi, non credo che esista in Italia un amministratore che da 14 anni si candida... Così fedele al suo territorio. E poi si ricandida per altri dieci anni. Io avevo detto che però imperativo per me, perché sono stato votato presidente della regione, era concludere la stagione della pandemia. E visto che non c'ero solo io, ma per fortuna c'era Roberto Galtieri e ora delle primarie che si stanno facendo, alla fine abbiamo convenuto per non mettere a rischio l'istituzione regionale perché mancano due anni. Spero che nessuno consideri un problema il fatto di voler continuare a governare in un momento di difficoltà del tutto, no di difficoltà, di esigenza del territorio. Però un po' le è dispiaciuto o no? Le sarebbe piaciuto fare il sindaco di Roma? Candidarsi a fare il sindaco di Roma? Allora, mi sarebbe dispiaciuto lasciare un vuoto. E anche per questo, per tre volte consecutive, mi sono candidato in questo territorio in quelle giornate drammatiche. Ora io confido che Roma volti pagina, ma lo dico non da presidente, lo dico da romano. Perché se si va avanti così? Ieri è stata la giornata mondiale degli oceani e Roma era, come qualcuno ha twittato felicemente, era un oceano. Però adesso saremo pieni di rifiuti, lo siamo ancora. La sindaca uscente Raggi dice che la colpa è sua perché lei non gli vuole liberare una delle discariche, Magliano Sabino mi pare, che lei aveva individuato per poter smaltire questo nuovo cumulo gigantesco di rifiuti che sta sommergendo la capitale. Lo fa apposta questa ricostruzione che l'amministrazione comunale di Virginia Raggi a 2019 aveva ottemperato a quello che è un dovere dell'amministrazione comunale di indicare un sito per la discarica, ma per un motivo semplice, perché l'Europa e il buonsenso prevedono che il rifiuto si smaltisce vicino al luogo dove è prodotto. E invece la patologia di Roma è che purtroppo si stanno spargendo i rifiuti in tutta Italia e rischiamo in tutta Europa. Ha presente lo stadio olimpico? Ecco, negli ultimi cinque anni, immagini lo stadio olimpico pieno di rifiuti, per quattro volte lo stadio olimpico abbiamo portato i rifiuti in Lombardia, in Emilia Romagna, in Umbria, in Toscana, in Abruzzo, in Puglia, in provincia di Viterbo, le persone normali dicono basta, noi siamo disponibili ad aiutare la capitale, ma come accade in tutto il mondo è giusto che ci siano siti dove conferire, attenzione perché qui purtroppo accade questo perché c'è l'incubo di Malagrotta, non ci sarà mai più una discarica come Malagrotta. Quella è fuori dal diritto comunitario, o no? Come sappiamo. Ci sarà il rifiuto trattato, ma altro tema, Roma non ha un programma di impianti, di impianti che trattano il rifiuto, quelli che avevano molti li ha chiusi senza un'alternativa, quindi il tema non è Zingaretti e io mi sono assunto la responsabilità perché per dovere devo far valere i poteri sostitutivi, ma per venire bene a una mancanza di un'assunzione di responsabilità. Insomma la Raggi non merita la riconferma dal suo punto di vista, non se l'è conquistata. Guardi, nulla di personale, ma io credo che questo sia un segnale che ormai avvertono tutti, cioè io ho la sensazione che la città sia sfuggita di mano, non c'è più un tema che sia sotto una programmazione di governo. A me ha colpito una cosa piccola, non è piccola, in Italia a Roma è rimasta una squadra di basket, questa squadra di basket che adesso sta facendo, deve andare a fare i campionati, se ne dovrà andare a fare la partita e noi li aiuteremo andando a Ferentino perché a Roma non c'è più un campo dove si possono fare le partite di basket per i campionati perché il palazzetto dello sport è chiuso, non so. Capito. Ma questo è un esempio, se vogliamo possiamo continuare. No, no, fermiamoci qua. È un grande tema di riprendere in mano, primo. Secondo, io lo dico, Roma non può vivere di manutenzione o solo di amministrazione. Noi fra quattro anni l'Italia e Roma ospiterà il più grande evento planetario della storia dell'umanità dopo il Covid, che è il grande giubileo del 2025. Quindi noi abbiamo davanti, non solo dal punto di vista religioso, ma sia per i credenti che i non credenti, la più grande occasione, mi permetto di dire, anche per chi non ha fede di riflessione sul mondo. E questo avverrà qui. E quindi noi dobbiamo pensare a quella città che ospiti questo grande evento. Senta, da amministratore locale c'è un altro grande tema che è esploso in questi ore. È riesploso, mi spingo a dire, perché in effetti in modo carsico ogni tanto riviene fuori. Mi riferisco alla vicenda della sindaca di Crema, che tra l'altro è del Partito Democratico, la Bonaldi, che ha ricevuto un avviso di garanzia perché un bambino in un asilo nido si è schiacciato due dita. Questo ha innescato una sollevazione a partire dal presidente dell'Anci, De Caro, anche lui sindaco del Partito Democratico, ma a seguire tutti gli altri sindaci che dicono così noi non possiamo andare avanti. Non si possono amministrare città complesse con la spada di Damocle continua di un qualunque avviso di garanzia per qualunque sciocchezza, anche al di fuori delle competenze e delle responsabilità dello stesso sindaco. È forse anche questa una delle ragioni per le quali non si trovano sindaci candidati. E che si può fare per risolvere il problema? Dobbiamo rivedere le norme dell'abuso d'ufficio. Che cosa si può fare? Io condivido molto la denuncia dei sindaci, la faccio mia e riguarda i sindaci, ma un po' tutti gli amministratori. Quello che è accaduto è molto chiaro. Noi abbiamo avuto una legislazione nel corso degli anni che ha prodotto un affastellamento di norme, magari alcune pensate senza sapere che ce n'erano altre, che rende praticamente impossibile avventurarsi nell'atto amministrativo. Oggi non ricordo chi si rischia o abuso d'ufficio se firmi o omissione dati d'ufficio se non firmi. L'ha detto Beppe Sala, sindaco di Milano. Sì, perché a me, allora quando le arriva una delibera, anche a me, nella prima pagina ci sono cinque firme che sono degli estensori del dirigente e dell'assessore. La firma del sindaco o del presidente della regione è in ultima. Io se non firmo, nel momento in cui ho le firme di tutti, posso incorrere alla realtà. Quindi bisogna rivedere le norme. Ma anche in questo contesto, a mio giudizio, il traffico di influenze è un'altra cosa che si affastella. E paradossalmente, per garantire legalità e trasparenza, noi dovremmo ripulire da tutto quello che è una inappropriatezza dell'intervento della magistratura. Nel senso che sono quasi dovuti a doverlo fare, perché la babbella di norme ti mette in una terra di nessuno, che purtroppo, purtroppo, a volte colpisce le persone per bene. Tant'è vero che la gran parte delle omissioni d'ufficio, degli abusi d'ufficio, poi finiscono invece in archiviazione. Però intasano le procure, intasano i tribunali, ma soprattutto distruggono gli esseri umani, come è accaduto, come distruggono moralmente. E mi permetto di dire questo, è una cosa che riguarda anche i mass media. Io difendo la magistratura, difendo la giustizia, difendo la stampa e difendo la politica. Però dobbiamo anche dirci una cosa. Vede, il legno di per sé non è pericoloso. Uccide o costruisce. Il fuoco non è di per sé pericoloso. Riscalda la casa o dà fuoco alla casa. A volte i problemi sono legati dalla strana commistione che si innesta tra questi diversi di autonomia. Quindi nessuno si deve offendere se si dice guardate che bisogna darsi delle regole che permettono la salvaguardia dell'autonomia della magistratura, la salvaguardia del diritto della libertà di distanza e i limiti della politica. Io purtroppo credo che questa sia una riflessione che se non facciamo, altro che ricoveri. Ha apprezzato la biura che ha fatto Luigi Di Maio rispetto alla lunga stagione della gogna che bisogna archiviare? Molto. Molto. Io l'ho detto, mi è sembrato un atto di grande coraggio e che ora deve avere delle conseguenze in un atteggiamento sul quale non c'entra nulla il fatto di favorire l'illegalità, ma di quello che riconduce una persona che è indagata nella condizione di essere indagato e non colpevole e responsabile. Ma guardi che noi parliamo di Di Maio, ma mi permetto di dire, ci sarebbe da fare una rivisitazione anche su come questi fatti vengono raccontati o sullo spazio che si dà. Questo lo potrebbe fare un'università, dovremmo decidere. I centimetri quadrati o i chilometri quadrati. Sì, quando uno viene indagato oppure quando uno viene assolto. Un vecchio tema, è un vecchio tema, ce ne faremo carico. No, no, questo riguarda noi e ce ne faremo carico. Senta, stiamo già sforando, ma torniamo da dove siamo partiti. Vorrei ritornare al Covid e ai vaccini. Oggi c'è un caso piuttosto inquietante perché abbiamo vissuto ai primi di gennaio e poi a febbraio lo shock di AstraZeneca quando ci sono stati alcuni dei reazioni avverse e per un certo periodo le persone hanno rifiutato di vaccinarsi con quel vaccino. Poi è stato variamente superato anche attraverso i pareri dell'EMA e dell'AIFA eccetera. Adesso però riscoppia un altro caso. Ci sono alcuni esperti che stanno dicendo, a partire da Antonella Viola che tra l'altro collabora con il nostro giornale, attenzione perché è meglio non somministrare AstraZeneca ai più giovani. C'è una serie di scienziati che hanno addirittura raccolto firme e hanno mandato una lettera al presidente l'AIFA Magrini su questo. E comincia una sorta di riflessione. Locatelli ha detto, altro virologo tra l'altro del comitato tecnico scientifico, è preferibile darlo agli ultra sessantenni. Però nel frattempo il governo ha detto venite a vaccinarvi, lo ha detto a tutti i ragazzi, ci sono stati in tante regioni gli open day. Che sta succedendo? Anche da noi. Sì, ci dobbiamo preoccupare. Allora Bardi, questo è figlio innanzitutto, diciamolo soprattutto, di una vittoria. Nella storia della medicina, della scienza, i vaccini o i medicinali arrivano al consumo dopo anni di sperimentazioni. Noi viviamo una fase nella quale oggettivamente c'è stata un'anticipazione che ci ha permesso ora di tornare vivi e liberi. Ma la cifra di quello che sta avvenendo, e ora possiamo dirlo perché sono tanti, noi stiamo arrivando a 4 milioni di vaccinati, di inoculazioni su 5 milioni e mezzo, 7 di abitanti e gli over 18 sono ancora di meno. Noi stiamo però concludendo, stiamo a metà strada di una campagna vaccinale che sostanzialmente ha esclusivamente salvato degli esseri umani. Questo deve essere il faro. Poi questo tipo di discussione, io mi permetto di dire, vengano fatte nelle sedi appropriate. Perché le indicazioni, almeno che le indicazioni delle amministrazioni pubbliche siano fatte sotto una gerarchia che deve vedere il livello europeo e il livello nazionale che dà le indicazioni, è l'ABC. La nota molto positiva, anche qui dobbiamo essere contenti, è che gli italiani si vaccinano. Sì, però ci vogliono messaggi chiari anche da questo punto di vista. Però evidentemente i messaggi sono stati chiari. Io ho figli grandi ormai, ma se avessi figli più giovani sarei preoccupato. Se devo far vaccinare mio figlio con AstraZeneca dico, oddio, è giusto farlo oppure no? L'idea come l'ho vissuta io quando ho ricevuto le indicazioni dell'EMA per cui alcuni vaccini andavano fatti solo under 60 e dopo 20 giorni hanno detto che no, bisognava farli. Quindi figuri se non c'è il problema. E io mi auguro che anche su questo si arrivi a fare pienissima luce. Però anche qui la sostanza è che il messaggio che è stato mandato è stato un messaggio che poi si è rivelato giusto. Perché noi stiamo facendo la più grande campagna di vaccinazione della storia dell'uomo e la stiamo facendo con dei risultati incredibilmente... Beh, considerati i tempi non c'è dubbio. Incredibilmente positivi. Il Lazio che punto è della classifica? Secondo mi pare, vero? Sì, ma noi abbiamo ora... La cosa più importante è anche che sugli over 60 siamo i primi. Sì. E questo è importante perché noi, si ricorderà, adottando il metodo israeliano, non abbiamo mai detto chi rischia di più di prenderlo il Covid, ma chi rischia di più di morire se è il Covid. Sì. Questo ci ha permesso... Però c'è ancora una quota, adesso non parlo tanto del Lazio, faccio un discorso di carattere più generale, di più anziani che non si vogliono vaccinare. E infatti il Governo sta pensando di andarseli a prendere casa per casa, anche se questo ha una sua complessità attraverso la rete dei medici di base. Sì, io non so se non vogliono o sono... Io mi permetto di dire, sono fasce di popolazione che tendenzialmente hanno un rapporto con il resto della società di maggiore distanza. Quindi va bene il fatto ora di andare a cercare... Io non penso che sia questo il pretesto. E comunque se è questo è importante stimolare. La cosa bellissima, devo dire, io non ho mai avuto dubbi, è la risposta delle ragazze e dei ragazzi. Io non ho mai creduto... Sì, adesso speriamo di non deluderli con questa... No, no, è vero, è vero, è stata una cosa anche inaspettata per molti versi. Ma guardi, io invece quello che vedevo, che se ne dica, è una generazione che ha reagito in maniera esemplare all'anno e mezzo di DAD e di chiusura a casa, perché sa qual è il punto? Che un ragazzo e una ragazza ha bisogno delle relazioni sociali cento volte di più. Di più di quante non ne abbiamo noi, certo, non c'è dubbio. E ora stanno correndo a vaccinarsi perché vogliono riprendere a vivere, ma in sicurezza. Certo, non c'è dubbio. Ecco, però da questo punto di vista, altro elemento di criticità forse che riguarda l'Italia. Oggi il Parlamento europeo ha dato il via libera al pass vaccinale europeo. L'Italia che l'aveva proposto per prima, siamo un po' in ritardo da questo punto di vista. O no? Guardi, noi, se non voglio fare l'attestato di vaccinazione digitale sul cellulare, lo si scarica nella nostra regione da settimane ormai. Ora vediamo i tempi. Il punto non è il ritardo sull'oggetto. Il problema è la qualità dei data center sparsi nel paese e del data center che produrrà questo strumento. Che, ritorniamo al discorso iniziale, conferma quanto dietro alla parola green economy o rivoluzione digitale non ci sono slogan, ma è il cuore della possibilità di rimanere in competizione nel pianeta o no? Io sono molto orgoglioso, non ci sta pensando nessuno e faccio un appello perché diventi una politica nazionale. Noi abbiamo scelto di portare in 17.000 o 20.000 appartamenti delle case popolari dell'Ater la banda larghissima per allargare il diritto alla fruizione dell'utilizzo della rete che non è solo distribuire, ma è anche una grande battaglia di euguaglianza. Quindi la rivoluzione digitale vorrà dire non portare i picchi di eccellenza a livello di competizione, ma portarci il sistema paese e la massa critica. Senta, meglio Arcuri o meglio Figliuolo? Io penso che Figliuolo può fare un buon lavoro perché c'è stato Arcuri che lo ha impostato. Ma ci si trova meglio a lavorare con Figliuolo di quanto ci si trova con Arcuri? Oppure uguale? Va bene così? No, è diverso il lavoro. Figliuolo ha iniziato perché ci sono i vaccini, un lavoro con le regioni, quindi c'è un lavoro di impatto più quotidiano. Arcuri all'inizio della pandemia si è occupato soprattutto del rapporto tra lo Stato e i produttori per far arrivare il prodotto, le scuole. Io ho lavorato bene con entrambi. Perché non faccio mai polemiche io. Forse ogni tanto bisognerebbe farle. Sì, perché? Che dice? No, non lo so, che magari qualche volta il conflitto aiuta. È un paese che deve chiacchiere. Questo è vero. Ma il conflitto, vede, il conflitto parolaio non serve a nessuno. Io non ho mai trovato uno che dice che bella litigata che hai fatto. Dice grazie perché mi hai fatto il vaccino in maniera eccezionale. Se la politica non produce risultati, rimane tutto appeso al chiacchiericcio. Ma ogni tanto un po' di nostalgia per la... Lei continua a fare politica, come è evidente. Però un po' di nostalgia per la politica nazionale ce l'ha o no? Io sono molto contento che sto aiutando il mio paese a rimettersi in piedi. Noi siamo la seconda regione italiana per il prodotto interno lordo a ricostruire imprese, a investire nelle infrastrutture e non mi sento lontano dalla politica. Anzi, una cosa che non mi manca e non mi mancherà mai è la passione politica. Questo si vede. Tra qualche giorno riprenderò a girare l'Italia per far vincere i candidati sindaci del centro-sinistra nella battaglia per le primarie. Impegno non da poco, eh? Ma vinceremo. Sì, lei è convinto? Guardi, quando io ero segretario... Mi dica dove vincerete, in tutte le grandi città in cui si vota? Roma, Torino, Milano, Napoli, Bologna... Il giornalista... Lo faccio tuttora, ci provo perlomeno. Ma se lei si ricorda quando io ero segretario del PD le paginate finirà 7-0 contro... Come no? Sa come è finita dopo 200 comizi? 4-3 per il centro-sinistra. E stavolta? E stavolta noi vinceremo nelle grandi città... In tutte e cinque che ho appena detto? Io penso di sì. In tutte e cinque. Anche qui è simpatico. Quando a Roma non c'era il candidato hanno fatto... E oggi noi viviamo in una situazione dove il centro-destra a Roma non è il candidato ma perché non ha una proposta politica non è il candidato. E così è in tante altre zone. Io penso che invece... Guardi, se la vogliamo proprio dire tutta il nostro problema del nostro campo di forze è che noi predileggiamo... O io no, ma alcuni prediligono vedere questo campo più come il luogo del conflitto che non il luogo dell'elaborazione della battaglia politica. E il nostro popolo questo non lo sopporta. E quindi spesso si allontana. E se io forse ho avuto un consenso anche nella mia denuncia o in questi mesi è perché ho sempre privilegiato la parola unità perché so che gli avversari stanno dall'altra parte e li rispetto. Sono avversari che stanno dall'altra parte. Ce li aveva in casa però un po' di avversari. Se lo scriveranno i libri di storia. Renzi l'ha più sentito? No, non ho avuto l'occasione. Ma non è una cosa polemica. Vabbè, ma almeno con Renzi la polemica la può fare. Almeno con Renzi la può fare. Ma quando sarà utile sui contenuti non mancherò di farla. Adesso devo vaccinare. Ma Renzi ormai è di destra. Creare lavoro e creare opportunità per questo nostro paese. Io credo che le persone a me chiedono questo e mi fa piacere dopo 14 anni di amministrazione che continuano a chiederlo. Bene, l'ultima cosa che le voglio chiedere il Quirinale lo chiedo sempre a tutti qual è il suo candidato ideale per il Colle febbraio 22? Non è proprio una cosa che è nei miei orizzonti delle riflessioni. Vedremo il mio candidato sarà quello che il mio partito mi dirà di votare. Ah, è così diligente che prese. Assolutamente anche perché vissi precedenti io votai per fortuna con convinzione sia il rinnovo come Presidente di Regione del Presidente Napolitano nel secondo mandato che poi del Presidente Mattarella. Io se qualcuno si azzarda a dire Può rivotare anche Mattarella. Se qualcuno si azzarda a dire come si deve fare la sanità del Lazio diventa una furia. Ma se qualcuno mi dice cosa farei del Presidente della Repubblica seguirò le indicazioni del mio partito. Ma Draghi sarebbe un buon Presidente della Repubblica secondo lei? Perché sì Salvini l'ha candidato la Meloni pure. Ma io guardi che se ne dica penso di poter dire che il Presidente Draghi e di questo ne sono molto contento oggi è Presidente del Consiglio anche grazie al lavoro che io ho compiuto in quelle ore e anche Conte devo dire quando è uscito da Palazzo Chigi in un momento delicato ha fatto una scelta di campo molto molto netta. la scelta sul Quirinale che ne abbia l'autorevolezza è ovvio questo dipenderà da tutta una serie di fattori che oggi sono addirittura mi permetta di dire inesistenti per quella che sarà l'Italia dopo l'estate. Molto bene abbiamo fatto la solita ora invece della mezza canonica ma va bene così era una grande occasione perché era tempo che non si riusciva a fare una chiacchierata così distesa con Nicola Zingaretti che io ringrazio molto in bocca al lupo grazie a voi insomma ad mai ora a presto grazie grazie a tutti a presto